Chi non muore si rivede, direbbe qualcuno, anche se lui, il bandito più conosciuto e in qualche modo ammirato del nord-est, è probabile che nessuno lo riuscirà a vedere. Stiamo parlando di Felice Maniero, meglio noto come faccia d'angelo, protagonista della scena criminale nord-estina tra la fine degli anni 80 e la prima metà dei 90. Felicetto aveva avuto sempre un debole, anzi due, le donne e la mamma. Ed è proprio all'amatissima mamma, Lucia Carrain, energica e dinamica signora che, secondo gli ex componenti della banda, condivideva molto con il figlio e si sarebbe a volte anche prestata a fare la cassiera, circostanza mai confermata, che Maniero avrebbe intestato obbligazioni, fondi, quote azionarie ed anche tre assicurazioni sulla vita. Così investiva i soldi del traffico di droghe e delle rapine messe a segno della sua banda. Negli anni d'oro, fiumi di denaro, che almeno in parte l'ex boss girava al suo avvocato dell'epoca, il padovano Enrico Vandelli, e al veronese Gianni Catalogna, cognato del legale e promotore finanziario in una società di intermediazione. Gli sviluppi arrivano a vent'anni dal suo arresto e faccia d'angelo tornerà dunque in tribunale, questa volta nella veste di grande accusatore. Lunedì sarà nell'aula bunker di Padova, o più probabilmente in collegamento video da una località segreta. Per ribadire ciò che rivalò già ai magistrati, cioè che affidava parte di quanto incassava con cocaina e assalti armati proprio ai due. Si parla di una cifra che si aggira sul vecchio miliardo di lire. Le indagini del pubblico ministero lagunare Faola Mossa hanno permesso di svelare l'altro volto del boss, non solo spietato criminale ma anche uomo d'affari. Stando alla ricostruzione dell'accusa, gli investimenti sarebbero avvenuti tra il 91 e l'ottobre del 93, quando Maniero era all'apice del successo, gli anni delle rapine e della droga che inondava le piazze venete, ma anche dei colpi che contribuirono a crearne il mito. Come quando il 10 ottobre del 1991 quattro componenti della banda entrarono nella Basilica del Santo e rubarono il mento di Sant'Antonio, vicende registrate dalla storia criminale italiana.